Il 26 ottobre 2012 Io tanto che non documento uccisioni perché non ne valeva più la pena Purtroppo dato che tutti se ne sono fregati dopo il 2012 di quello che stava succedendo in Ucraina Come ho detto tante volte, finita la pubblicità non interessa più a nessuno Però oggi inquadra questo cagnolino qua, non inquadra le volontarie Però è successa una cosa grave stanotte E praticamente hanno avvelenato diversi randaggi E questo è il primo Torniamo a fare cronaca, torniamo a documentare Questo è il primo randaggio Oltretutto randaggi sterilizzati, come dico sempre Che è inutile che vengono qua a sterilizzare le associazioni straniere È inutile che vengono qua a sterilizzare i cani quando poi i cani sterilizzati vengono ammazzati Questi cani sono dispiti da volontari Che ci hanno chiamato stamattina La zona è una zona dove non danno fastidio a nessuno In questa zona qua perché non c'è niente intorno Questo è il primo randaggio avvelenato Andiamo a vedere il secondo Che è una femmina Sterilizzata anche lei Questa è una femmina È una cagnolina Sterilizzata Uccisa anche lei Quindi ce ne sono altri in giro Adesso andiamo a vederne un altro Quindi tra l'altro Come ho detto sono dei cani Che qui non danno fastidio perché non ci sono abitazioni Quindi non danno fastidio alla gente Quindi i volontari pensano chiaramente ai Doganter Purtroppo adesso come dicono Parlavo prima con i volontari Questi sono volontari che io non conosco Li ho conosciuti oggi Mi hanno chiamato E praticamente adesso arriva l'autunno Inizieranno le stragi di animali un'altra volta Quindi questa è una creatura Tranquilla perché erano cani che venivano gestiti dentro qua dai volontari Qua è un posto disabitato E quindi non davano fastidio Sono proprio venuti qua ad ammazzarli Quindi non c'è verso Adesso andiamo a vedere un altro Poi ce n'è uno che sta correndo Si sta cercando di prenderlo per portarlo in ospedale Vediamo Adesso stiamo chiamando l'ospedale L'ospedale non risponde Adesso vediamo Tenteremo ancora Vediamo se si riuscirà a prendere Perché sta correndo con il veleno in corpo Probabilmente mezza velenata Adesso andiamo a vedere l'altro cane Che c'è là Quindi riprendiamo a documentare Perché le uccisioni ci sono state ancora Io non le ho documentate Perché non mi sembrava più logico documentare Dato che tutti sono girati dall'altra parte La pressione europea è finita dopo il 2012 E quindi questi sono i risultati E ripeto Non sono i primi che sono stati avvelenati E sono stati avvelenati altri Noi stiamo raccogliendo Le autopsie che vengono fatte agli animali Con veleni E voi sapete che in Ucraina È proibito avvelenare i cani per legge Questi sono i risultati E di un'altra parte Questo è il terzo cane che è stato ucciso, che è stato ommelenato. Niente, quindi questo è il terzo cane del branco, adesso siamo andati in carico di recuperare quella che sta correndo e la clinica ha dato l'ok, quindi possiamo vedere di recuperare l'altro cane e lo facciamo portare fuori, quindi gli allucinanti che continuano ad avvelenare questi cani ed è allucinante che si sconoscono dei nomi di Dukanter e nessuno fa niente andando contro la legge. Come ho detto, purtroppo il primo ministro ucraino vuol far passare una legge insieme ad altre persone per permettere l'uccisione dei cani e gatti randaggi. Praticamente i cani e i gatti randaggi verranno messi nell'elenco della selvaggina cacciabile come cinghiali, cervi eccetera. Durante questa legge voleva farla passare prima di Euro 2012, poi c'è stata la pressione di Euro 2012, quindi praticamente non di Euro 2012 ma delle associazioni nostre, dalle denunce e quindi lui scrisse, se vi ricordate, una lettera ai sindaci dicendo fermiamoci queste uccisioni perché praticamente stiamo facendo una brutta figura e andremo contro il business di Euro 2012, questa è la verità. Lui ha scritto queste cose ai sindaci perché c'era questa pressione da parte di associazioni, la pressione che io, praticamente le uccisioni che ho documentato dove è iniziata questa pressione da parte dell'Europa verso queste uccisioni, quindi erano in allerta e avevano smesso quelle uccisioni, quindi hanno fatto sterilizzare i cani, hanno accettato i compromessi e i contratti con associazioni straniere per far sterilizzare i cani per far vedere che loro facevano qualcosa. Finita la pressione, dopo 6 luglio 2012, lo dirò finché campo questa cosa, finita la pressione e finiti gli europei, tutti si sono fregati, tutti, ed ecco i risultati, si è continuato ad uccidere gli animali in Ucraina, si continua a Kharkov, si continua a Kiev, si continua in altre città, però gli animali sono tornati a morire in silenzio perché non fa più pubblicità per nessuno, quindi è una vergogna e continuerò a denunciare questa cosa, che le associazioni italiane non hanno fatto niente, solo chiacchiere, non hanno messo un euro, nessuno ha messo un euro per costruire i rifugi dove portare queste creature che oggi sono qua morte e si poteva salvarle, quindi questa è una vergogna, quindi continuiamo ad assistere adesso a omicidi di branchi, adesso arriva l'autunno quindi si inizierà e non c'è più la pressione, quindi il ministro ha deciso, vuol far passare questa legge perché purtroppo qui i politici sono tanti cacciatori, vogliono far passare questa legge quindi ci sarà uno sterminio di animali, continuerà perché non è mai finita la uccisione, non è mai finito niente, i cani stanno morendo ancora e tutti dopo luglio se ne sono fregati e sono tirati a tutti, tutti quanti e questa è una vergogna perché non l'Ucraina, i randaggi ucraini che sono crepati qua ancora per i dati comunali, stanno morendo ancora però non ne frega più a nessuno e questo è uno e chi è subito e chi è qui il prossimo e chi è un ottimo e chi è questo? E che sta quasi inserito? E come si si oppure so? come si oppure lo stiamo? Grazie a tutti